... Mister Grandi, allora una partita delicata, una partita importante anche per mantenere ancora il ritmo con il Montepaone che domani gioca a Catanzaro Lido. Una partita alterna, nel primo tempo avete un pochettino sofferto le avanzate del Soverato. Sì, è vero, ma ce l'aspettavamo. Sappiamo che il Soverato ha creato da un po' di tempo una nuova realtà in prima categoria, ne eravamo consapevoli. Il nostro appoggio, tra l'altro, paradossalmente è stato anche positivo. Poi il calcio si sa che gli episodi cambiano sia gli atteggiamenti mentali che i comportamenti in campo. L'1-0 ci ha un po' sbandati dal punto di vista dell'organizzazione e di quello che avevamo preparato e abbiamo avuto delle grosse difficoltà contro una squadra giovane che comunque corre, lotta e a discapito della categoria dimostra anche una buona tecnica. Quindi nel secondo tempo c'è stata proprio una reazione da parte vostra, una consapevolezza perché la partita era delicata. Sì, abbiamo cercato di cambiare qualcosa durante l'intervallo. Per fortuna questo è servito e ha dato i suoi grandi frutti. Ma tecnicamente penso che tra le due squadre si vedeva e c'era una bella differenza. Però nel calcio le cose non vanno scritte e dette, vanno sempre dimostrate sul campo. Fino a che non siamo riusciti a pareggiare e poi a passare in vantaggio, il campo diceva che c'erano due squadre alla pari. Quindi per adesso ci godiamo questo primo tempo, poi domani si vedrà. Sì, ci godiamo questo primo posto che rimane il nostro obiettivo. Stiamo avendo un periodo di grosse difficoltà perché dal punto di vista della disponibilità di giocatori è un periodo che riusciamo a mettere in grande condizione uno e poi lo perdiamo per febbre o per altro. Comunque noi rimaniamo una buona squadra e cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare fino alla fine. Poi alla fine vedremo quello che succederà. Ministro, allora una partita che aveva fatto balerare un pochettino l'idea del primo tempo perché è stata abbastanza brillante il Soverato. Poi nel secondo tempo abbiamo un pochettino soppesato quello che è stata veramente la potenza di questa squadra. Sì, diciamo che loro nel primo tempo abbiamo retto bene, li abbiamo messo anche in condizione di sbagliare. Dopodiché nel secondo tempo è uscita fuori la squadra loro perché sono tutti giocatori di esperienza e ci hanno tenuti lì. Purtroppo Procopio, il portiere, non era più in condizione, come vedete due tiri in porta hanno fatto due gol. Complimenti alla Rombiolese perché si merita tranquillamente la vittoria, il primo posto, quello che sia. Finalmente si è visto un po' di gente al campo. Comunque noi andiamo avanti, vediamo un attimino di continuare la nostra strada cercando la salvezza. Certamente oggi i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine del primo tempo, dopodiché ci hanno chiuso, questa è la verità. Gli esterni sono molto bravi, molto tecnici, quindi ci hanno messo in difficoltà. Complimenti alla Rombiolese. Mister, abbiamo un pochino, quindi la società ha in caso smaltito quello che è successo domenica scorsa? Sì, diciamo che è stato... Episodio increscioso. È stato anche un episodio quello che non ci aspettavamo, questa squalifica, perché veramente non ci credevamo. Questa squalifica di Pedro Secche, sì, ha sbagliato, rosso sì, ma due anni di squalifica mi sembra esagerato. Ha condizionato anche in questa gara tutto quello che è l'organigramma della squadra. Purtroppo il secondo tempo si è visto, insomma, più di questo non potevano fare i ragazzi. Complimenti comunque perché hanno giocato un primo tempo molto buono e speriamo... Noi abbiamo fatto ricorso comunque, perché non è giusto che un arbitro fischia la fine della partita su un episodio dove è stato espulso il calciatore e poi non abbiamo capito più niente. Credevamo che la riprendeva la partita. Comunque, vediamo quello che succede.